Una buona serata telespettatori e telespettatrici, ben ritrovati a questa nuova puntata di TV7 Comuni, il programma dedicato a farci conoscere il nostro territorio Veneto attraverso i primi cittadini. Anche questa sera affronteremo numerose tematiche, questa volta legate al Comune di Chioggia, così come facciamo con tutti i comuni della Regione Veneto. Affronteremo le loro fragilità, ma anche le peculiarità del territorio. E lo facciamo anche grazie a voi, grazie alla vostra partecipazione. Potete continuare a scriverci al 347 247 1498 oppure mandarci una mail a tv7comuni-gruppotv7.com con le vostre richieste da porre ai nostri primi cittadini. Come sempre, adesso possiamo entrare nel dettaglio con Maurizio che ci presenta, l'ospite della serata. Sì, Belmaris, è una puntata molto particolare perché parleremo di mare, di laguna, di spiaggia, di storia e cultura perché parleremo della bellissima cittadina di Chioggia con il sindaco di Chioggia, Mauro Ormelau. Grazie per essere con noi e averci raggiunto nei nostri studi, nonostante la viabilità un po' congestionata questa mattina, ma ne parleremo nel corso di questa puntata. Io direi, sindaco, prima di entrare nel vivo degli argomenti, vediamo subito il primo contributo che è dedicato alla croceristica di Chioggia, che è un elemento magari di cui si parla un po' meno in Veneto, ma che sta dando dei numeri molto interessanti. Vediamo il contributo e poi ne parliamo assieme. A Chioggia, al porto dei Saloni, è pronto ad accogliere le oltre 60 navi da crociera che, secondo le previsioni, faranno scalo nella cittadina marittima durante il 2024. L'ampliamento del calendario degli arrivi di navi bianche rappresenta un'ottima notizia per l'indotto turistico clodiense. Dalle 13 navi approdate nel 2022 si passerà a circa 30 entro la fine del 2023 per arrivare alle 60 del prossimo anno. Si stimano per notamenti di una o due notti in costante crescita. A causa del basso fondale, che non permette l'accesso alle navi con più di 7 metri di pescaggio, le navi da crociera che scelgono di fare scalo al porto dei Saloni sono di dimensioni medio-piccole e ospitano circa 900 passeggeri. Si tratta quindi di un turismo crocieristico più orientato verso il lusso, con una previsione di spesa pari a 1000 euro a notte per coppia. A variare sono anche le nazionalità dei turisti che scoprono Chioggia direttamente via mare. Agli europei si aggiungono infatti turisti americani, australiani e canadesi. Allora, i numeri sono molto interessanti. È stata una precisa strategia della sua amministrazione quella di dare nuovo vento in poppa alle crociere a Chioggia? Diciamo che noi avevamo inserito nel programma elettorale proprio di rilanciare, o meglio di partire con la croceristica, perché avevamo una zona importante del nostro territorio, che è l'isola dei Saloni, che era praticamente non utilizzata. Una volta ospitava il porto vecchio, il porto commerciale, che adesso è stato trasferito nella zona di Val d'Ario, però questa isola dei Saloni, queste banchine importanti venivano sfruttate praticamente pari a zero. Non c'era uno sfruttamento nel senso buono del termine. Quindi avevamo inserito proprio nel nostro programma elettorale il rilancio della croceristica, o meglio portare le crociere medio-piccole nel nostro territorio. Così è stato fatto dal mio insediamento, che risale all'ottobre del 2021. Appena insediato, avevo già iniziato a prendere subito i primi contatti con gli agenti marittimi, con la Capitaneria di Porto, con l'Autorità di Sistema Portuale di Venezia e Chioggia. E così è stato fatto, i primi incontri, e le prime crociere sono arrivate subito da giugno del 2022. Quindi pochi mesi dal mio insediamento ne sono arrivate 13 come primo anno. Poi sono aumentate, nel 2023 abbiamo raggiunto la quota di 35 crociere. Prossimo anno mi dicono che siano, diciamo, previste più crociere anche di quest'anno. Quindi è un nuovo tipo di turismo che prima la nostra città non aveva. La nostra città, sì, è una città importante, secondo comune della città metropolitana di Venezia, settimo comune di Veneto come numero di abitanti, una città che ha una vocazione turistica, prettamente turistica, però ovviamente è una città importante perché ha la prima flotta peschereccia d'Italia in tema di pesca, vive anche di agricoltura, di artigianato, quindi di commercio, di turismo, alberghi e spiagge. Quindi un turismo che prima la nostra città non aveva e arrivano in città, grazie ovviamente a queste crociere, turisti, come lo diceva appunto il servizio, australiani, americani, canadesi e inglesi. Sono tutti turisti che ora arrivano con la crociera, ma che un domani, un altro futuro, potrebbero arrivare anche in forma autonoma e arrivare nella nostra città e soggiornare ovviamente qualche giorno anche da noi. E allora le chiedo, di solito il turismo da crociera è associato a quello mordi e fuggi, insomma, ai grandi arrivi di persone, ai grandi flussi che però lasciano poco sul territorio. Perché a Chioggia questo non sarebbe in opera? Nel caso nostro, appunto come dicevo, sono crociere medio-piccole, quindi hanno diciamo al massimo 930 passeggeri, più altri circa 500 dell'equipaggio, che anche quelli consumano e vivono poi la città di Chioggia. Ma nel nostro caso sono numero di turisti che sono gestibili, ovviamente dalla città, anche grazie ai tour operator che comunque gestiscono questi turisti. Una parte visita anche Venezia, se questi turisti non sono mai stati a Venezia, vista la vicinanza con Chioggia, chiaramente è appetibile insomma Venezia, è una meta mondiale, però una parte rimane anche in città, quindi visita la nostra città e spende nella nostra città. I commercianti, anche gli albergatori e anche i ristoranti, mi dicono appunto della presenza, di questa nuova presenza di questi turisti, che spendono e hanno anche una capacità di spesa elevata, diciamo che a coppia spendono circa 1000 euro a notte, quindi potete ben capire che hanno una capacità di spesa importante anche per la nostra città. I benefici resterebbero sul territorio? I benefici restano anche sul territorio, perché ripeto, oltre ai turisti ci sono anche i membri dell'equipaggio, che ovviamente quando ormeggiano in qualche porto, è chiaro che non rimangono chiusi a chiave dentro in nave, visitano la città e c'è modo anche di visitare tante belle cose che abbiamo ovviamente nella nostra Chioggia. Ecco, rimanendo in tema di turismo, ma anche di trasporti, che infrastrutture ci sono e su quali state lavorando per garantire ai turisti di circolare all'interno, ad esempio, della laguna o per usare Chioggia come un punto di partenza per visitare il resto del Veneto? Allora, noi siamo collegati con Venezia, diciamo anche mediante i mezzi pubblici, i vaporetti della CTV, per dire che partono da Piazza Vigo a Chioggia e arrivano, raggiungono Pellestrina e poi portano fino al Lido, poi dal Lido di Venezia possono prendere un altro vaporetto e arrivare a Venezia. Altrimenti abbiamo la Raffaello Navigazione, che è una società privata che fa collegamenti, che fa visite anche guidate per i turisti, che li porta a Venezia, Murano, Burano, Torcello, fa visitare un po' tutte le isole di Venezia. Poi abbiamo, eventualmente, si può raggiungere Venezia mediante i pullman di Arriva Veneto, un trasporto pubblico, però a Chioggia, questo ci tengo a dirlo perché lo stiamo studiando e eravamo già usciti pubblicamente, insieme alla società Urban V, stiamo studiando un'infrastruttura, che sarà un'infrastruttura del futuro, ma non un futuro fra vent'anni, un futuro veramente molto vicino a noi, che è quella di creare un vertiporto. vertiporto e trasporto di persone mediante droni, che stanno già sperimentando a Roma, perché a Roma devono arrivare pronti per il 2025, quando ci sarà il giubileo. Noi stiamo pensando a sviluppare questa nuova tecnologia, insieme a questa Urban V, che è una società che è nata dalla collaborazione di Save, aeroporti di Roma, Bologna e Mizza, si sono messi assieme e stanno ovviamente sviluppando a questo nuovo modo di trasportare ovviamente le persone del futuro, però ripeto, vuol dire essere pronti a livello di Regione Veneto per il 2026 in vista delle Olimpiadi Invernali. Sta parlando già la Regione Veneto, noi come Chioggia siamo stati il primo comune a livello Veneto, se non a livello anche credo nazionale, a pensare a questa infrastruttura, che andrà a colmare quel vuoto che c'è stato in termini di infrastrutture, di collegamenti verso la nostra città. Noi abbiamo questa Romea che è una statale la più pericolosa d'Italia e purtroppo in tanti anni, in 30-40 anni di politica, quando magari c'erano, come si usa a dire, le bacche grasse, che c'erano anche disponibilità finanziarie diverse, la politica locale e anche regionale e nazionale non si è mai messa a tavolo, al tavolino insieme, per poter risolvere il problema della Romea, degli incidenti, di creare un'infrastruttura importante, perché le città balneari, e comunque le città turistiche, che sono prive di questi collegamenti, di queste infrastrutture importanti, sono destinate non a morire, ma a non crescere, perché il turista vuole arrivare comodo in città. Da noi si fanno colonne, come si fanno colonne, anche per arrivare in altre località balneari. Ecco, questo per quanto riguarda l'anima turistica, insomma, dopo parliamo anche della stagione balneare, che si è appena conclusa, perché ci sono degli aspetti interessanti. Ma so che in città c'è una riflessione molto importante per quanto riguarda l'emergenza abitativa. Eh sì. Cioè, dare delle case alle famiglie che purtroppo non se lo possono permettere, e in un contesto storico come quello di Chioggia, magari non è neanche così semplice, trovare gli spazi. Giusto? Esattamente. Noi, purtroppo, dico purtroppo, perché non riusciamo delle volte a dare delle risposte a delle famiglie in emergenza abitative, delle famiglie in difficoltà, famiglie che magari sono in, diciamo, sono sotto sfrato, ecco. E quindi abbiamo la difficoltà, pur pagando anche magari l'affitto, con il fondo affitto, non riusciamo a trovare delle abitazioni a Chioggia, a Sottomarina, dove poter sistemare queste famiglie, anche con figli, pur pagando magari, dando la garanzia di pagare l'affitto. Perché? Perché essendo ormai una città, appunto, a vocazione turistica, i proprietari, poi ognuno del proprio bene può fare quello che vuole, insomma, non è che il sindaco può comandare in casa ad altri. Preferiscono allozzare i turisti. Preferiscono affittare queste case, questi appartamenti, anche affitti brevi, weekend, magari nei mesi di febbraio, marzo, aprile. Da maggio iniziano magari ad affittare questi appartamenti una settimana, 15 giorni, poi nel periodo estivo, chiaramente. E a livello di affitti brevi, chiaramente, c'è maggior guadagno, sicuramente. Quindi noi andiamo in difficoltà, ma nel bilancio di previsione del 2023 avevamo accantonato, proprio perché mi sono reso conto subito dopo un anno dall'insediamento, abbiamo accantonato circa 3 milioni di euro per l'acquisto dei beni nel centro storico. Uno per dare una risposta a questi cittadini che hanno ovviamente bisogno di un'abitazione e poi anche per evitare lo spopolamento di centri storici a favore magari di B&B che stanno nascendo un po' qua, un po' là, insomma. Va bene, allora, Belmaris, so che sono arrivate delle domande per il sindaco, giusto? Sulla città. Sì, sindaco, allora abbiamo Matteo che chiede Sindaco, parcheggiare in centro è un disastro, nei fine settimana è davvero un caos. Possiamo pensare ad un multipiano alle porte della città? Beh, questo intanto ringrazio Matteo perché ha toccato un tasto dolente. Ecco, se devo dire la verità, uno dei problemi che mi sta, diciamo, coinvolgendo di più è proprio la scarsità di parcheggi, proprio per la nostra città. È chiaro ormai a tutti che la nostra città è presa d'assalto in forma pacifica, chiaramente, dai tanti turisti e questo va bene, va molto bene perché ovviamente porta ricchezza anche nella nostra città, questi turisti portano ricchezza, però il problema di parcheggi è vero. Diciamo, io ho ereditato un po' dall'amministrazione precedente la questione della ZTL. Allora, io non sono contrario alla ZTL perché serve a mettere ordini e salvaguardare la città, il centro storico e anche i residenti, che purtroppo il residente soffre un po' l'onda del turismo che arriva in città, chiaramente, problemi per i parcheggi, specialmente nel quartiere Tombola, ai saloni, tutte le zone appena fuori dal centro storico chiaramente sono prese d'assalto dei parcheggi. Vanno ad occupare anche i parcheggi riservati ai residenti. Io prima di pensare alla ZTL avrei pensato di creare prima parcheggi. Ecco, una volta fatti i parcheggi allora potevo partire con la ZTL. Perché partire con la ZTL quando anche il turista che cerca un po', diciamo, turista, ma anche il residente cerca un po' anche la furbata, chiaro che dopo non potrà più farlo. Quindi andrà a parcheggiare e se non abbiamo parcheggi rischiano di prendere le multe e quindi uno che prende la multa una domenica, la seconda, la terza, dice boh a che oggi non ci vado più finché non fanno parcheggi. Quindi si doveva lavorare per creare parcheggi e poi attivare la ZTL. Comunque sui parcheggi stiamo lavorando, uno dovrebbe sorgere anche multipiano però bisogna chiaramente progettarlo ma nella nostra testa c'è dove adesso insistono i pullman diciamo di ACTV a Riva Veneto nel quartiere di Borgo San Giovanni che è a circa 500 metri dall'inizio del centro storico e poi stiamo pensando anche un grande parcheggio che possa ospitare almeno un mille autovetture nel quartiere dei Saloni. Però qui è prematuro ma ne avremo modo però stiamo pensando veramente l'idea c'è sia a Borgo San Giovanni che ai Saloni quindi in 7 minuti a piedi sei nel centro storico. Mentre adesso rispondiamo a Stefania che chiede le bici elettriche sfrecciano velocissime tra Sottomarina e Centro Storico chi controlla che rispettino i limiti e i pedoni? Allora controllare una bicicletta non è proprio così semplice non sono targate, corrono perché non rispettano i limiti di velocità che sono imposti dal codice della strada che è 25 km orari ecco e su questo sto dialogando con la motorizzazione civile di Venezia perché ci serve, ovviamente serve uno strumento tipo un banco prova dove mettere la bicicletta e provarla se supera i 25 km orari sarebbe prevista anche la confisca. Quindi sto lavorando anche su questo chiaro che controllano che controlla la polizia locale le forze di polizia però non è semplice controllare queste biciclette perché una volta c'era la piaga dei motorini a Sottomarina e a Chioggia negli anni 90 ecco adesso con l'avvento delle bici elettriche chiaramente c'è il problema delle bici elettriche io non perdo mai occasione per parlare ai nostri giovani di non correre con le bici nei marciapiedi sui marciapiedi di andare impennati di accendere le luci negli orari serali notturni sto cercando un po' alla volta di educarli però confido sempre nell'educazione che deve arrivare dai genitori in primis e nel buon senso nella testa che devono avere i nostri giovani. Sindaco ci fermiamo giusto per qualche secondo ovviamente voi non cambiate canale perché torniamo subito a parlare di Chioggia.